Gli invasi sono vuoti, quindi cambia la distribuzione idrica a Caltanissetta e in provincia. Quando attiene la distribuzione idrica, a seguito della riunione di ieri tenutosi al Dipartimento delle Acque, purtroppo non si vede all'orizzonte del tempo buono, però le nuvole sperate che dovrebbero portare la pioggia per riempire gli invasi ancora non ci sono. Questo comporta inevitabilmente una riduzione del servizio idrico e già da oggi scenderemo di circa 10 litri solo sul capoluogo, 5 su San Cataldo e poi in altri comuni e da martedì prossimo è prevista un'ulteriore riduzione di 30 litri, il che significa chiaramente che i turni distributivi avranno una durata che non sarà quella odierna, c'è un giorno sì, un giorno no, ma necessariamente dovremmo allungarli. Non sappiamo ancora quando, però si prevede che ci possano essere disagi, almeno fino a quando gli invasi non si riempiono.